Jean-Paul, di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di quello che è nascosto qui sotto la capsula del Sushiki. Lo sapete già, abbiamo una piccola sorpresa, ma che fa molto piacere, che questo tappo di sughero è un tappo di sughero veritabile, ma abbiamo messo una vernice alimentaria rosata sopra. E allora, questo è un brevetto internazionale, siamo i primi, i soli, a fare questo al mondo. È una piccola cosa, ma fa sempre piacere. Quando aprite la bottiglia avete la sorpresa di scoprire questo tappo di sughero rosa. E il rosa è il colore dell'ottimismo, il colore della vita, il colore del piacere, il colore della seduzione, dell'allegria, esattamente. Dunque, quando aprite una bottiglia di Sushiki, siete contenti perché il vino è eccezionale, ma avete un piccolo regalino, che sono questi.